Salve, oggi andiamo a vedere come creare un porta hard disk per la vostra scrivania da avvitare appunto ad essa anti-vibrazione su Fusion 360 per poi andarlo a stampare 3D Allora, come sempre andiamo ad aprire Fusion 360 e andare a premere subito CTRL S Per fare cosa? Per salvare il nostro file come porta hard disk Dopo, durante il processo non dovremo andare a distrarci scrivendo il nome ma potremo fare semplicemente CTRL S e salvare la nostra versione Andiamo a creare uno sketch sul top Prima di tutto, come nel video scorso, dobbiamo andare a creare un parametro di gioco Quindi premiamo S, andiamo su Parameters, Change Parameters Andiamo su User Parameters e mettiamo più Chiamiamolo gioco oppure margine E io ci vado a mettere un gioco di 0,5 mm Ora andiamo a creare il nostro rettangolo a due punti e andiamo ad impostare come prima dimensione lo spessore del nostro hard disk Quindi, per esempio, 15 mm E poi facciamo più gioco Cosicché ci aggiunge questo margine di sicurezza per fare entrare l'oggetto nella nostra stampa 3D Facciamo anche lo stesso per la larghezza del nostro hard disk che nel mio caso è di 79 mm più gioco Bene, fatto questo abbiamo già il contenitore del nostro hard disk A cui dobbiamo andare però a dare uno spessore Io vi consiglio uno spessore di 2,5 mm perché andare con uno spessore maggiore non ha senso in quanto non dovrà essere sollecitato da delle particolari forze E usciamo dallo sketch andando su Finish Sketch Portiamoci in una visuale comoda E andiamo a distrudere la parte esterna di 20 mm Come vedete qua abbiamo già il nostro bellissimo contenitore per l'hard disk Se deve essere un hard disk da avvitare però dobbiamo appunto aggiungerci un foro per la vite Quindi andiamo nella parte di dietro che poi è uguale all'altra parte Andiamo a creare uno sketch Le viti come sapete hanno bisogno di una svasatura Ovvero questa cosa qua per nascondere tra virgolette tutta la parte in cui si va ad avvitare Quindi vado a prendere una linea di costruzione e la metto dal punto centrale che viene evidenziato dal triangolo all'altro punto centrale Devo andare a creare un quadrato che però non sarà il quadrato a due punti ma sarà il quadrato, il rettangolo che poi, sì, sarà un quadrato Ora andiamo ad impostare questo del doppio del diametro del nostro cerchio Quindi 3.5x2x3.5x2 Benissimo, anche qua dobbiamo andare a levare il fatto che siano i quadrati di costruzione Andiamo ad estrudere il quadrato della svasatura della nostra vite Quindi immaginiamo che sia di 5 mm meno lo spessore della parete, quindi 2,5 In modo tale che abbiamo un'estrusione adesso di 2,5 mm Per dare un po' più di forza però alla struttura Andiamo a premere G per creare un chamfer E invece di equal distance facciamo 2 distance Ora portiamo questa linea un po' in qua Portiamo questa linea anche un po' in qua In modo tale che riusciamo a vedere quello che stiamo facendo Portiamo questa linea al confine Per esempio 38 mm può andare bene E portiamo anche questa fin dove arriva Per esempio 2,5 mm Dopo aver fatto questo giriamoci dall'altra parte E tenendo premuto CTRL andiamo a selezionare anche l'altro lato E clicchiamo sopra Potrebbe bastare anche così per la sua robustezza Ma andiamo di nuovo a premere G Andiamo a fare la stessa cosa Quindi aumento un po' qua, aumento un po' qua Per riuscirlo a intravedere Porto questo a 2,5 Poi scendo giù Tenendo premuto CTRL Seleziono anche questo Benissimo come vedete adesso abbiamo Una struttura di supporto Si potrebbe dire Per permettere la svasatura della vite Bene andiamo a creare uno sketch qua E ritroviamo di nuovo il punto centrale Che possiamo farlo anche tramite le diagonali Andiamo quindi di nuovo a creare un cerchio Di diametro 3,5 mm Premiamo E per l'estrusione Clicchiamo sul cerchio E lo andiamo a portare dall'altra parte Benissimo Ora per la svasatura della vite Ci basterebbe premere G Sulla nostra tastiera Cliccare qua Andare su Equal Distance E immettere la distanza tra la fine della vite Quindi la parte in cui andiamo a vitare piatta E l'inizio della filettatura Che nel mio caso è 3,5 mm Bene Ora però ci serve un modo per avvitare questa vite Quindi dovremmo fare un buco qua Per poter inserire il cacciavite Per fare questo dobbiamo andare a creare uno sketch Su questa parte qua E subito dopo andare su Finish Sketch Con totale adesso da poter selezionare questo spazio Premere E E portare O portare questo fino all'altra parete O semplicemente andando a cliccare l'altra parete Oppure andando su To Object E andare a selezionare la parete In questo modo avremo lo spazio Questo è pressoché finito Ma se lo volete montare in verticale C'è bisogno di un altro pezzo di questo Che però abbia una base sotto Per non farci volare l'hard disk Per fare questo andiamo semplicemente su Budies Andiamo a fare Copy Oppure Ctrl C E poi Ctrl V Noi adesso facendo Ctrl V Vedremo solo che questo si evidenzierà Ma in realtà se ne è creato uno sopra l'altro Quindi andiamolo a spostare Di quanto vogliamo Per esempio 10 cm Ed ecco qua che abbiamo una copia identica Quindi per fare la base di sotto Dobbiamo andare a creare uno sketch su questo profilo Quindi creiamo uno sketch E subito dopo finiamo lo sketch In modo tale adesso da poter selezionare questa parte vuota Premiamo E per l'estrusione Andiamo a selezionare il profilo di spessore E la parte vuota andiamo a scrivere 2.5 Quello spessore che avevamo impostato anche per queste pareti Bene ma ora perché l'ho chiamato antivibrazione? Perché sappiamo che il male peggiore per gli hard disk Sono proprio le vibrazioni Quindi io quando sono andato a montare questi supporti per gli hard disk Ho aggiunto proprio qua dietro Tra la vite e il mobile Ho aggiunto dei piccoli gommini che state vedendo in foto Che smorzano le vibrazioni E diciamo consentono anche un leggero movimento all'hard disk stesso Quindi qualsiasi vibrazione data dallo spostamento della scrivania Oppure dallo spostamento del mouse Della tastiera, dell'asta per il microfono E di tutto quello che è attaccato fisicamente alla scrivania Verrà smorzato da questi gommini E le vibrazioni non andranno a risentire sull'hard disk Per questo tutorial di Fusion 360 E tutto ci vediamo giovedì prossimo con un altro video